Una volta cliccato sull'indirizzo presente nella mail, si entrerà nella finestra di Login. Basterà inserire le credenziali spedite che si trovano all'interno della mail e poi premere l'apposito tasto Login. Questo è il quadro principale di Netflix. Come prima operazione consigliamo sempre di completare la propria anagrafica. Per farlo, sezione Studio, Utenti e dati studio. Bisognerà cliccare su questa linea che rappresenta la vostra installazione e completare i dati presenti. Più dati si hanno, meglio è, ma è importante completare i dati contraddistinti dall'asterisco. Nella sezione Nome utente, seguita da Password e Conferma Password, possiamo, se vogliamo, cambiare il nome utente che ci è stato dato automaticamente dal server di Netflix. Su Password e Conferma Password possiamo cambiare la password che ci è stata data di default dal server di Netflix. Completata questa prima parte, basterà premere Conferma e ci sposteremo sui dati studio. Anche qui, più dati si hanno, meglio è, ma come sempre, basta completare quelli con l'asterisco, quindi il nome dello studio, un codice fiscale valido, una partita IVA, l'indirizzo, la città e la provincia e il telefono. Una volta completati i dati, basterà premere Conferma e l'anagrafica sarà completa. Questa scritta Benvenuto Avvocato cambierà nel momento in cui si cambierà menu. Ad esempio si clicca su Pratiche e ci sarà la nuova scritta che abbiamo messo nell'anagrafica.